Finalmente ci troviamo più di metà squadra qua ad Avellino, io sono arrivato già da quasi una settimana, da cinque giorni, mi sono trovato bene, non vedo l'ora che arrivino anche il resto della squadra per iniziare comunque a giocare, ad allenarsi, mettere dentro situazioni di gioco nuove per poi iniziare dalla prossima settimana i vari tornei per il campionato. Innanzitutto abbiamo trovato una grande accoglienza, gente molto disponibile sia all'interno della società, sia fuori come tifosi ma anche come città in generale, ho fatto un giro in centro, qualcuno mi ha già incoraggiato per l'inizio della stagione, qualcuno è già molto interessato a questa stagione di Avellino. Spero di avere un minutaggio abbastanza equo, adeguato per ogni partita, insomma avere un minutaggio costante all'interno della stagione, questo secondo me è fondamentale per la crescita di un ragazzo che vuole cercare di diventare un giocatore professionista. L'emozione è grande, è un piacere essere andato ad Avellino dopo un bel po' di cavetta nelle serie minori, quindi l'emozione è grande. A noi fa piacere far parte del gruppo, negli ultimi anni forse questa è una cosa un po' immancata, quindi da parte nostra l'impegno sarà massimo e sarà nostra intenzione anche far capire ai compagni cosa significa giocare per la maglia di Avellino che comunque è una piazza molto calda e che ha voglia di fare bene. Il numero 57 è casuale o è una scelta già per il campionato? Una scelta per il campionato, un numero casuale l'anno scorso e diciamo è un mio portafortuna anche perché l'ho usato l'anno precedente e ho vinto il campionato, quindi speriamo bene.